Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è venerdì 30 maggio 2014 e come di consueto questa è la rassegna stampa che trasmettiamo tutte le mattine in diretta alle 7.45 sul canale 17 del Digitele Terrestre Fano TV. Buongiorno, dicevo, allora cominciamo subito con il Santo del Giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Ferdinando, il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà alle 20.42. Il tempo è ancora a guasto, si guasterà nel corso della giornata, più nelle zone dell'entroterra con nuvolosità variabile invece lungo la costa. Queste le previsioni per oggi, venerdì 30 dalla Protezione Civile delle Marche. Come dicevo, vedremo cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nell'entroterra, nelle ore centrali della giornata e poi un rassarennamento successivo invece nel corso della serata. Per quanto riguarda le precipitazioni, si avranno nelle ore centrali con rovesci o temporali diffusi nelle zone interne con fenomeni localmente di moderata intensità, più probabili nei rilievi meridionali. Per quanto riguarda le temperature di oggi, saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Per la giornata di sabato avremo cielo inizialmente nuvoloso, con diminuzione della nuvolosità a partire dalla mattinata. Le precipitazioni saranno soltanto nella parte centro-meridionale della regione, interesserà soprattutto le zone interne, mentre non si escludono piogge sulla costa, ma relativamente alla zona meridionale della regione. Per domenica, domenica primo giugno, anche qui ancora cielo poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nelle zone interne durante le ore centrali, avremo precipitazioni deboli, sparse, più probabili nelle zone interne, e nelle ore centrali della giornata, le temperature stazionarie a un lieve aumento. Per i prossimi giorni avremo un inizio di settimana ancora sotto l'influsso negativo di una depressione, quindi potrebbe esserci ancora del cattivo tempo e anche dell'aria fredda che arriverà dalla Scandinavia, che indugerà appunto sulla penisola balcanica, scatenando poi queste perturbazioni. In seguito pare profilarsi un periodo caratterizzato dalla presenza di un anticiclone, quindi quando si parla di anticiclone, di conseguenza si parla di miglioramento del tempo e quindi di sole. Allora, cominciamo e andiamo a leggere i giornali. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, l'intervista a Riccardo Severi, ex la tua Fano, ex assessore della tua Fano, ex collaboratore del sindaco Stefano Aguzzi, che parla di equilibrio e strategia che sono state perse in questi ultimi tempi dalla lista. L'ex assessore Severi dice la tua Fano non è più il traino, perciò me ne sono andato. Era necessario cambiare già dal mese di luglio, ma nessuno se ne è accorto o lo ha voluto fare. Il voto di domenica scorsa, dice ancora Riccardo Severi, esprime il desiderio della gente di un vero cambiamento. Massimo Seri ha dalla sua parte concretezza e novità. Per chi non segue le vicende politiche locali, Massimo Seri è uscito dalla tua Fano e fa parte della lista di Massimo Seri. Mentre Giacomo Mattioli dice faremo posizione responsabile. Giacomo Mattioli è il segretario della tua Fano che ha detto io sono disposto a rimettere il mio mandato dopo il risultato ottenuto domenica scorsa alle urne. Poi dice comunque noi continueremo nella nostra battaglia, anche se faremo posizione, cercheremo di mantenere Aset pubblica. A Fano poi cercheremo appunto di far fondere le due Aset, Aset Holding e Aset Spa. Diremo no al biogas, no al passaggio di Marotta sotto Mondolfo e faremo di tutto per difendere l'ospedale di Fano. Intanto tra Massimo Seri e Adaro Miccioli, che ricordo andranno al balottaggio l'8 di giugno, tra loro non si risparmiano le frecciate. Il candidato del centro-sinistra dice la città ha voglia di cambiare, la replica del grillino, solo noi siamo nuovi. Abusivismo, bed and breakfast contestati, tassa di soggiorno da 51 attività, sono arrivati poco più di 6.000 euro. Gli albergatori fanesi sono sul piede di guerra contro l'abusivismo, un dato emerso dal consuntivo dell'incasso del comune dalla tassa di soggiorno. A Fano ad esempio sono in attività 51 bed and breakfast, ebbene la somma complessiva pagata da questo settore per il 2013 è solo di 6.329 euro. Come dire, i conti insomma non tornano. Erano senza permesso due cittadini di nazionalità egiziana di 28 e 51 anni, l'altro sono stati trovati nello scalo portuale di Fano su un peschereccio battente nazionalità italiana e sono stati controllati e fermati durante un'operazione della guardia costiera di Fano. La cronaca si rompe una tubatura a Lucrezia di Cartoceto, appartamenti allagati. È successo mercoledì sera intorno alle 22.20. I vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire su una condotta di via del Casello, che è allacciata all'acquedotto di Tavernelle, che ha subito una rottura causando allagamenti in strada e in alcune abitazioni. Urta un ciclista e fugge, era un amico. Il 19enne è caduto dalla bicicletta, lo ha scoperto dopo l'individuazione e la denuncia del pirata. Martedì scorso, intorno alle 4 del pomeriggio, a Santorso, questo automobilista aveva urtato un ciclista e non si era fermato a prestare soccorso. La cosa curiosa, scrive il Corriere Adriatico di questa mattina, è che la vittima dell'incidente era un amico e il ragazzo ha saputo dell'accaduto solo quando è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Fano. E poi c'è anche la notizia di un altro incidente, un incidente a Tre Ponti, due donne coinvolte in un tamponamento che sono poi finite all'ospedale. 16enne fanese in finale a Miss Mondo. Questa è la fotografia di una ragazza che si chiama Rossella Fiorani e che da domani appunto parteciperà a Gallipoli ed è appunto fanese, di soli 16 anni, frequente il liceo artistico e l'accademia musicale ed ha una notevole passione per il canto. Andiamo a leggere adesso l'altra pagina invece del Corriere Adriatico, quella di Pesaro. Oggi a Pesaro c'è il cambio della guardia, domani la nuova giunta, la componente femminile dell'esecutiva resta l'ultimo rebus per Ricci, salgono le quotazioni di Cinzia Ceccaroli. Oggi praticamente alle 15.30 nella Sala Rossa del Municipio a Pesaro saranno ufficializzati i risultati del voto del 25 maggio e verrà effettuato il passaggio di consegne tra Luca Ceriscioli e il nuovo sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Anche per la regione si riparte dal PD, Gostoli evita bilanci in attesa dei ballottaggi di Fano e Urbino ma esulta il successo, è stato davvero un successo straordinario. Per l'entroterra faremo un'analisi puntuale tra i comuni riconquistati e quelli perduti. Ride notturno dei ladri a Vismara, siamo a Pesaro, svaliggiate oltre 70 garage, adesso vanno di moda i garage, rubate una moto e una bicicletta da corsa in azione una banda di professionisti. E ancora dalla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico quando la solidarietà spose il divertimento, spettacoli e laboratori a Baia Flaminia. E poi altre notizie da Fossombrone, sempre sulla sanità, dopo le promesse Mezzolani passi ai fatti, il comitato interviene sulla lungodegenza e sul day surgery. E poi ancora dagli altri quotidiani andiamo sul messaggero, la prima pagina, Ricci domani la giunta, sempre più probabile un esecutivo composto da nove assessori, di cui quattro donne. Matteo si tiene per sé la delega del turismo, oggi la proclamazione a sindaco in comune. Poi sempre dalla prima pagina del messaggero c'è un'intervista che è anche motivo per fare un bilancio di questi dieci anni a Pesaro, un'intervista al vescovo Piero Coccia. Pesaro dice Coccia quanto sei cambiata, lo vedremo tra un attimo nelle pagine interne, poi ancora 48 ore e poi dovrebbe arrivare l'estate. Le pagine interne del messaggero, Ricci tiene la delega del turismo, giunta a nove assessori, tra le donne in corsa della Dora, Mengucci, Ceccaroli e Fraternali. Mentre per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle c'è l'ammissione di una sconfitta, è inutile negarlo, Ballerini dice Pazzaglia poco conosciuto, ma con cinque consiglieri si può lavorare bene. Ancora dal messaggero, il vescovo Coccia dicevamo dieci anni a Pesaro, tra cambiamenti e soddisfazioni, il Monsignore dice molte le criticità, dalla politica la gente vuole risposte. E ancora, sempre dal messaggero, Ucchielli, Punzecchia, Matteo Ricci lo ha fatto in occasione di un'intervista radiofonica a Radio Prima Rete, Ucchielli parla di ingrati della politica e si parla di questo legame che ovviamente non c'è più, questo legame di ferro tra i due, che un tempo erano davvero legati da un forte patto, poi in realtà Matteo Ricci è passato con Matteo Renzi, non subito perché ci è arrivato dopo, ma insomma, e quindi si è messo dalla parte del rottamatore. E quindi questo legame tra Matteo Ricci e Palmiro Ucchielli si è spezzato. Ieri Palmiro Ucchielli, in questa intervista radiofonica, in questa radio pesarese, ha detto penso che i giovani impegnati in politica debbano avere maggiore gratitudine e umiltà e il riferimento a Matteo, insomma, poi dice ancora con il suo sarcasmo che molti conosceranno di Palmiro Ucchielli maggiore gratitudine e umiltà che è come l'intelligenza, o ce l'hai o non ce l'hai. Non fai nomi, ovviamente Palmiro Ucchielli, ma inevitabile per tutti il suo riferimento al suo ex delfino Matteo Ricci. Allora, andiamo adesso sulle pagine del resto del Carlino. Anche qui si parla della giunta 9 di Matteo Ricci e poi si parla dei sondaggisti. A Pesaro ne abbiamo due, con una società che abbiamo imparato a conoscere, la Sigma Consulting di Pesaro, che a differenza di tante altre società di cui si è parlato, società che sono state anche criticate, perché abbiamo visto come in molti casi abbiano sbagliato a dare i risultati, in particolare anche a livello europeo, eccetera. Nessuno aveva previsto questo Expo A, il 40% per esempio del PD, così come non avevano previsto il flop del Movimento 5 Stelle. Ebbene, quelli che invece lo hanno fatto sul nostro territorio, anche noi lo abbiamo fatto con questa società, devo dire che anche il resto del Carlino questa mattina mette in evidenza come invece i sondaggisti fatti in casa ci hanno preso. Sigma Consulting ha azzeccato il risultato di Pesaro e Fano. In questa fotografia vedete Alberto Paterniani a sinistra e Marco Coltro di Sigma Consulting a destra. E su Fano dicono, in questo caso avevamo detto che ci sarebbe stato un candidato forte del centro-sinistra e uno del Movimento 5 Stelle, mentre gli elettori dei tre candidati di centro-destra si sarebbero spaccati praticamente in parti uguali. E così è stato. La cronaca sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino violenta la figliastra di 12 anni poi la obbliga ad abortire a processo l'ex convivente quarantenne della madre ha messo le mani addosso anche alla sorella più grande mettendola ugualmente incinta. Una storia davvero ai limiti della follia è una storia che però si è consumata dal 2008 al 2010 tutto questo a Pesaro poi a Bari dove la famiglia si era trasferita fino al 2013. La madre delle due ragazzine e compagna dell'uomo non si era mai accorta di nulla lui è un quarantenne barese di cui il Carlino non scrive il nome per difendere soprattutto l'anonimato delle ragazze ieri si è aperto il processo a Pesaro nei confronti dell'uomo davanti al GUP Lorena Mussoni. Assalto ai garage rubata anche una Yamaha 600 e una bici da corsa poi ancora le notizie in breve di cronaca una pensionata è stata raggirata nel centro di Pesaro e le hanno sfilato un orologio d'oro è stata raggirata poi agganciata da due sconosciuti con una scusa due persone si sono avvicinate ad un'anziana che stava rientrando in casa in qualche modo l'hanno distratta fino al punto di sfilarle un orologio d'oro di un certo valore e pensate che come sempre accade in questi casi questi signori sono purtroppo bravissimi e riescono a non farsi accorgere e quindi riescono sempre a mettere a segno i loro propositi dopo le minacce una valanga di voti la doppia vittoria di Attilio Patrignani Attilio Patrignani l'ex sindaco di Monteporzio che dopo due mandati da primo cittadino era candidato come consigliere nelle file della lista il comune per tutti guidata da Giovanni Brecce ebbene era stato minacciato aveva trovato sulla sua parabrezza della Alfa Romeo Mito un biglietto che gli intimava di ritirarsi dalla contesa elettorale perché altrimenti sarebbe successo qualcosa alla moglie e ai figli poi il responsabile tra l'altro è stato individuato e denunciato ai carabinieri quindi intanto però quello che c'è da dire è che appunto è stato eletto consigliere e quindi il candidato il candidato insomma si è preso la sua bella rivincita da Marotta via i rifiuti dalla spiaggia le ruspe sono all'opera il vice sindaco mondolfese Alvise Carloni e i lavori di ripascimento della costa a Serrungarina invece per Marta Falcioni consenso bulgaro non c'è stata storia per lei 72,43% dei consensi a Mondolfo domani si rinnova la tradizione c'è la fiaccolata fino al santuario chiudiamo con la pagina la pagina di Pesaro in primo piano del resto del Carlino provincia in 71 verso il pre pensionamento se ne andranno entro il 2015 anche 5 dirigenti ora ci sono 541 dipendenti è tutto per la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi ricordo che stasera alle 20.30 occhio alla notizia e poi il nostro sito internet occhio alla notizia punto it buona giornata grazie a tutti